Tanti imprenditori e commercianti che accettavano Siket Simpliciter, l'istursione, quella di un clan noto a Taranto già destinatario del sigillo della mafiosità colpito dalla sentenza di condanna passata in giudicato nell'operazione Città Nostra. Nonostante fossero in carcere, i fratelli Giuseppe e Nicola Pascali continuavano a dominare il mercato con Antonella Bevilacqua e Eufrasia Quero, un ruolo importante anche per Emanuele Capuano, Massimo e Patrizio Sedete. È stato sgominato dalla squadra mobile della polizia di Taranto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, 28 persone in carcere e 10 ai domiciliari. Collaboravano con altri due gruppi criminali affiliati, Ashish e Cocaina, una fiorente commercio arrivavano direttamente dalla camorra napoletana e dalla malavita albanese, indagati in stato di libertà altri 20. Le indagini sono durate due anni e ci sono collegamenti chiari anche con la sparatoria delle ultime ore al quartiere Tamburi, ha spiegato il direttore della direzione centrale anticrimine, il prefetto Francesco Messina. Un sistema mafioso che riesce ad essere silente grazie all'omertà, ha detto. Sì, diciamo omertà. Io direi che c'è una mancanza di collaborazione da parte degli estorti, è evidente. Non hanno assolutamente fatto ricorso alle forze dell'ordine. Personaggi che addirittura si mettevano in mostra con dei video su YouTube. Il GIP fa un ragionamento nell'ordinanza di custodia cautelare in cui l'estorsione non aveva bisogno di essere consumata attraverso il ricorso ad azioni violente. Bastava presentarsi come soggetti riconoscibili e riconosciuti. È un'organizzazione che non temeva l'intervento delle forze dell'ordine e quindi il pericolo che le armi potessero essere ritrovate. Tant'è vero che ne abbiamo ritrovate tantissime. Il collegamento carcere esterno è stato fondamentale. Questore, ancora una volta un ruolo apicale delle donne, quasi delle reggenti, scritto il GIP. Il ruolo delle donne è un po' quello che avviene in altre realtà del territorio, come sapete anche la Sagra Corona Unita. Si sostituiscono ai loro compagni, ai loro mariti nella gestione della cosa illecita.